Dietro fronte dell'amministrazione comunale di Sapri sulle tariffe per il servizio mensa scolastica, venerdì pomeriggio la giunta, presieduta dal sindaco Antonio Gentile, dopo le proteste delle famiglie degli studenti e dell'opposizione di fronte agli aumenti stabiliti con il nuovo anno, ha licenziato una delibera con cui ridetermina i costi, andando incontro alle esigenze della popolazione e torna sostanzialmente al vecchio sistema. Nessuna più distinzione dunque tra studenti e residenti e non, nessun incremento sulle tariffe nonostante la nuova gara d'appalto e i nuovi costi emersi. E questo si legge nella delibera di giunta nella consapevolezza che tra gli iscritti alle scuole dell'infanzia di Sapri c'è un numero rilevante di alunni che vivono in zone contigue al comune e che convenzionalmente frequentano le scuole sapresi, e che le criticità derivanti da pandemia e conflitto internazionale hanno comunque inciso sul contesto socio-economico delle famiglie. La giunta ha deciso pertanto di recuperare gli 11.356 euro in più richiesti quest'anno dalla ditta giudicatrice dell'appalto per il servizio mensa, attingendo al bilancio comunale. La vicenda era scattata dopo l'approvazione della delibera di giunta dello scorso 5 gennaio, quando il comune rivide i parametri delle tariffe con aumenti cadenzati in base all'Isee e che secondo l'opposizione andavano dal 19 al 312%. Le nuove quote però non sono mai entrate in vigore proprio a seguito dei malumori sollevatisi in maniera generalizzata. Apprezziamo il dietrofronte dell'amministrazione, commenta ora il gruppo di opposizione. Ci teniamo che questo non passi come gentile concessione, ma come atto dovuto alla cittadinanza. Secondo Siamo Sapri, la scelta di coprire con fondi comunali i costi in più della mensa poteva essere adottata subito e senza l'intervento di opposizione e famiglie.